Un altro duro colpo al clan Strisciuglio. Nelle scorse ore 12 persone ritenute vicine al sodalizio criminale operante nei quartieri Sampio, Santo Spirito e Palese di Bari sono state arrestate con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di una persona che per oltre 9 anni è stata costretta a subire violenze e vessazioni. Le disposizioni cautelare fanno seguito ai primi tre arresti effettuati in flagranza a febbraio scorso. Nelle indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Bari è stata fondamentale la collaborazione della vittima che ha dovuto anche superare delle resistenze familiari. Sette dei provvedimenti hanno interessato persone già detenute in carcere tra loro anche uno degli esponenti di spicco del clan Strisciuglio sottoposto al regime di 41 bis. La necessità di ricorrere in modo massiccio alle estorsioni di cui gli inquirenti ipotezzano quindi una rete molto più numerosa di vittime rivelerebbe uno stato di sofferenza del clan costretto a fare cassa a tutti i costi. Sicuramente ce ne sono molti altri, infatti la mia amarezza è nella constatazione che le denunce sono pochissime o quasi inesistenti quando invece il fenomeno è palesemente diffuso e nell'ambito di queste attività investigative è emerso che gli stessi protagonisti diciamo così parlavano di altre estorsioni. Nel caso degli arresti delle scorse ore è emerso come in alcuni casi le minacce siano state fatte in videochiamata con i mandanti in stato di detenzione, circostanza che ancora una volta fa emergere la difficoltà a prevenire la presenza di cellulari nelle carceri ma soprattutto, dicono ancora gli inquirenti, sottolinea la necessità dello strumento del carcere duro. Noi abbiamo, non solo noi, tutte le procure d'Italia hanno indagini e certezze sul fatto che nelle carceri italiane vengono introdotti un numero incredibile di telefoni cellulari oltre ad altro e questi telefoni e addirittura anche smartphone vengono utilizzati non soltanto per parlare con i parenti ma anche e soprattutto per dettare ordini all'esterno del carcere. Denunciare insomma è l'unica soluzione. Applicare le misure cautelari in modo tempestivo, ha detto il procuratore Rossi, potrebbe diventare più difficoltoso con il nuovo disegno di legge. Ci saranno notevoli criticità, come già hanno messo in evidenza tutti i presidenti del Tribunale. Basti pensare che invece di una persona ne occorreranno tre, basti pensare che per altri procedimenti bisognerà fare un doppio interrogatorio e non saranno certamente sufficienti i 250 nuovi magistrati.